Ciao piccoli scarafaggi bentornati in questo nuovo video sono mancato da un po' ma tanto penso non sia fregato nessuno ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto e oggi un video un po' particolare settimana scorsa sono state qui le vertigine acustiche un duo che è nato acustico per poi sviluppare altre sonorità soprattutto in questo nuovo disco vi sto aiutando nella produzione dell'arrangiamento e nella registrazione abbiamo passato una giornata insieme per registrare le tracce vocali del brano bambini spiaggia mi è uscito fuori un video molto simpatico che lo volevo far vedere vabbè niente guardatevi il video e noi ci vediamo al prossimo video pollici che lusso che mi portano la colazione le vertigine acustiche che sfamano il faro beccate il suo cornetto magnatelo testo appeso perché la vertigine soffre di vertigini il testo sul cellulare fa più trap mentre invece sul testo è finito comincia il dibattito eh non lo so è quello che fa grazie a tutti ah beh fantastico si dai vedete sapere che quando cominciano tutto questo discorso io praticamente vengo rariato fuori e mi isolo ti senti vabbè dai ti metto vicino a mamma e vado a prima fila oh grazie come se non esistessi più vai aldino allora questo è che sono voi bello cioè quindi torni a scuola e non faccia la capra sei d'accordo? se metto ello lo è l'altro nano ello mamma mia come gli piace la sua canzone si respira atmosfera estiva nella bottega del faro ragazzi stiamo ascoltando la base con la voce guida tra poco la nostra cantante effettuerà la sua prestazione praticamente questi sono i bollettini della multa coratezzato bollettini ci sventolo alla faccia dell'agenzia delle entrate quando c'è lui dietro me non temo più soldi utilizzeremo preamplificatore NIV 1073 storico degli anni 70 ovviamente virtuale della UAD questo è il nostro progetto quindi vi spoleremo qualche pezzo della canzone brutti stronzi prendi in mano paletta e secchiello aiutami che siamo si appoggiano a schiena ah la senti la belba eh la voce la sento un po' più bassa rispetto alla base che è il castello shaker out shaker out come shakeramali come shakeramali? viene da pubba quello possiamo vedere che si è ritirato Antonio si è accorciato ecco il bambino in spiaggia pronta? vamos ok cominciamo prima take oggi Ramona la vertigine lei la vertigine lui è l'acustico quando costruiscono castelli di sabbia la cura e la precisione dei gesti di rimettere a posto il mondo a pezzi aiutami a ricostruire il castello lo sapevi che da loro nascono le felici lo sai che inseguiamo gli uccellini che nell'aria circuiscono il mare lo sai che le onde con il frangersi loro conoscono anche il linguaggio dei sordo-mudi che ha detto? ora è cominciato il dibattito fra cosa fare con la voce e la parte finale fra le due trombe no però prima vedi che quando gli è bella mamma mia che è russa la paura vai così così fa lo fa lo fa gli elettori vienesi va iuva iuva alle va iuva no iuva no iuva no è uva tanto sono i te guarda la vertigine ci frega lui ha dei sprazi però geniali ci mette mogliette a far chi ce finanzia qua? è un macello non è pronto per sostituirmi stai mute che legge la maccio che dici Doms? da oggi in poi io sarò basta perché là è Castelli di Sabbia in che senso? quando un giorno vi sta l'ora è appena finito il nuovo giorno è appena cominciato guarda dopo due giorni cada gettano nuove fondamenta ok guarda è pausa pranzo la prima sessione è finita dopo che ci ubriacheremo cominceremo con un po' di controcanti e andiamo faro vertigini bello amore mio amici vi presento Cesare il mio gattone le vertigini vanno a pranzo dove mette musica anche inciampato stavi rimanendo solo vertigine stavi perdendo l'acustica la stavi faccio mangiare poco non è ma poco ma perché non mi hanno in questa idea? è finito da ammassare abbiamo al controcanto il maestro Domenico Bini nascono le fenici questo covid finirà distrutti ma felici ci metteremo sopra dei sassi ragazzi bella grande vertigine acustica shake